La ricerca della verità è il tema principale della pièce teatrale Concetta al Buio. Lo spettacolo portato in scena sabato sera al teatro Marcello Perracchia Ragusa per la regia di Guglielmo Ferro, con la collaborazione di Giovanni Arezzo, Agostino Zumba e Francesco Maria Tardi. Concetta al Buio è la storia di una adolescente la cui vita passa inesorabilmente dalla sua stanza. L'unico ponte con il mondo esterno è un piccolo quaderno rosso ad averlo scritto e concetto acqua viva, interpretato dal talentoso attore ragusano Giovanni Arezzo. In questo quaderno il protagonista scrive tutto ciò che è accaduto nella sua vita come una specie di diario segreto e i personaggi descritti prendono vita, si animano e riempiono le giornate dell'adolescente. Quello che ne viene fuori è una storia di ipocrisia, abusi e verità nascoste, filtrata dallo sguardo curioso, ingenuo e puro del protagonista. Concetto acqua viva, un giorno decide di scrivere un diario indirizzato a Gesù, all'interno del quale racconta la sua vita, cose belle, cose brutte, in particolare si concentra su quelle che lui chiama le due grandi tragedie della sua vita. Attraverso queste lettere che lui scrive a Gesù in scena vivono, esistono, perché si materializzano anche gli altri personaggi di cui parla, quindi la mia mamma, padre Torino che è il prete della parrocchia dove vado sempre io, il mio padre spirituale di riferimento, un dottore, mio fratello, si materializzano tutti i vari personaggi della storia. Questo testo è stato scritto da un drammaturgo palermitano che si chiama Rosario Palazzolo, nel 2011 credo, e in quello stesso anno io ho letto il romanzo, perché questo testo non nasce per essere un testo teatrale, anche se Rosario Palazzolo come ho già detto è un uomo di teatro e un drammaturgo, ma è un romanzo inizialmente, un romanzo breve, che si chiama Concetto al buio come lo spettacolo. Insieme a Francesco Maria Attardi abbiamo cominciato a lavorare su questo testo per cercare di tirarne fuori un copione. Abbiamo fatto un primo step, abbiamo messo punto alla prima fase del lavoro e abbiamo mostrato quello che avevamo creato a Guglielmo Ferro, che oltre ad essere il figlio dell'indimenticabile Turi, è anche il maestro di Francesco Maria Attardi, che ha visto quello che noi avevamo combinato e dopo averci trovato centinaia di difetti ha detto mi piace molto questo progetto, mi piacete molto voi due, voglio farvi la regia. E da quel momento in poi lo spettacolo ha preso tutto un altro slancio, perché lui ha inserito un altro attore che è Agostino Zumbo e ci ha dato una mano a ridurre il romanzo per il teatro.